Fabio che partita ti aspetti? Insomma dalla presentazione sembra bella dura. Sì è una partita difficilissima ma nello stesso tempo che tutti vorrebbero giocare. La partita che si giocherà in uno stadio vero, uno stadio che ha una grande tradizione contro un avversario di grande livello quindi noi ci faremo trovare pronti, questo è sicuro. Al Catania in teoria possono andare bene due risultati su tre, ti aspetti una squadra che va per un battuto lo stesso? Al Catania a tre partite dalla fine con il Lecce che riposa è come noi, è condannato a vincere. Fabio quindi questo prevedibile atteggiamento del Catania, la ricerca della vittoria a tutti i costi può essere un piccolo vantaggio nell'interpretazione della partita? Sì, magari noi non dovendo fare a tutti i costi la partita nel senso che non troviamo un avversario che si chiude, un avversario che ci aspetta magari possiamo avere dei vantaggi ma comunque relativi perché se diamo il pallino del gioco completamente in mano al Catania con i giocatori come Lodi, giocatori come Curiali, giocatori comunque lusso per la categoria ti possono far male in qualsiasi momento. In ogni momento. Dovremmo essere bravi a gestire la fase di non possesso ma altrettanto lucidi a cercare di sfruttare le occasioni che comunque capiteranno. Grazie a tutti.